ciao a tutti oggi prepareremo gli sformatini di zucchine e fontina il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa ingredienti sono zucchina dagli addadini parmigiano fontina scalogno farina di tipo zero olio extravergine d'oliva aglio senza anima sale pepe noce moscata latte uova basilico e prezzemolo diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano il basilico il prezzemolo chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 mettiamo da parte il trito senza lavare il boccale mettiamo l'aglio e lo scalogno e li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7 riuniamo un po sul fondo del boccale aggiungiamo l'olio e lo facciamo insaporire per tre minuti 120 gradi velocità 1 aggiungere le zucchine il sale il pepe la noce moscata chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 7 finiamo un po sul fondo del boccale aggiungiamo il trito di parmigiano il latte la farina e le uova chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 7 il composto è pronto adesso andremo a formare gli sformatini abbiamo preso una teglia per muffin ci serviranno degli stampini o in silicone o in alluminio che vanno unti con un po d'olio iniziamo a mettere il composto posizioniamo un pezzo di fontina in ogni stampino completiamo con il resto del composto adesso cuociamo a forno preriscaldato a 200 gradi per 25 minuti i sformatini di zucchine e fontina sono cotti andiamo a impiattare sformatini di zucchine e fontina grazie e alla prossima ricetta grazie